Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. In una fredda notte avvolta dalle ombre, emerge l'infausta vicenda che coinvolge l'ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Il destino crudele ha decretato che lei non comparirà tra gli illustri eredi, in quanto i legami con Berlusconi si sono spezzati nel lontano 2014, quando il loro divorzio scosse gli animi della società. Come una tragica eredità di dolore, il coniuge divorziato si trova privo di diritti sulle ricchezze accumulate nel corso degli anni. A meno che non si celino oscure sorprese in testamenti misteriosi, è difficile immaginare che Berlusconi abbia riservato un posto a Veronica Lario nell'agoniata successione. L'oscurità del futuro avvolge l'ex moglie, mentre l'unica luce che potrebbe risplendere sul suo cammino è rappresentata dalla pensione di reversibilità. Un'esigua quota percentuale dell'assegno pensionistico che spetterebbe al compianto coniuge potrebbe essere il magro conforto che l'attende. Tuttavia, considerato che la Lario, come già detto, non godeva di un assegno divorzile, è legittimo interrogarsi se le spetti anche questa forma di sostegno finanziario nel labirinto delle leggi e delle vicende personali.